Sorpresa puntata domenicale dovuta al fatto che siamo in piena stagione degli eventi, ce n'è appena stato uno che il Future Game Show e ci sono anche un po' di altre notizie e ovviamente oggi è il giorno dell'evento Microsoft, quindi come potevo mancare? Parleremo quindi di questo e altro nella puntata di oggi. Ben trovati su Crystal News, gente, un saluto a tutti quelli che stanno seguendo questo episodio su YouTube oppure sul podcast. Bene, come ho detto, sorpresa ragazzi, lo so, normalmente la puntata di domenica non la faccio, ma dopo tutte le assenze che ci sono state, un po' è anche per quello e per il fatto che siamo in piena stagione degli eventi e abbiamo appena visto uno degli eventi che fanno parte di tutta la stagione di eventi appunto del Summer Game Show e altri, ho pensato che era il caso di fare la puntata delle news anche oggi perché ci sono cose di cui discutere. Oltretutto, come potevo mancare, di darvi appuntamento a oggi che c'è, beh, alla luce di com'è andato il Summer Game Fest mi viene da dire l'evento più importante di questa stagione che è l'evento Microsoft comunque adesso avremo modo di parlarne. Comunque, ieri c'è stato il Future Game Show e quindi ecco qui tutti quanti gli annunci che ci sono stati. Spoiler, è stato un bel evento. Future Game Show, Summer Showcase 2024, tutti i giochi, i trailer e gli annunci. È stata tutta questa bella robettina. Lo show inizia con Bodgan's Cross, una world premiere, gioco affascinante, 2D, narrato in maniera epica, nel quale si vedono animali in armatura combattere per il futuro in stile Signore degli Anelli. Sì, lo so, non riuscite a prenderlo sul serio raccontato così, però francamente sembrava carino. Arriverà presto su Steam Epic Games Store da aggiungere alla wishlist. Action RPG con i grizzly o orsetti vari. Va bene. Poi, First Dorf. Primo nano, First Dorf. È un action builder. Tenete presente questo con un nano come protagonista. Non è uno in stile Gimli, ma è a bordo di un mecha che combatte, costruisce e cerca di sopravvivere in un ambiente ostile da solo in compagnia di altri amici. La demo è già disponibile su Steam. PS, ricominceranno molto presto i gameplay e vedrete una tonnellata di proviamolo perché ci sono tantissime demo in questa stagione degli eventi molto molto interessanti e non me le voglio perdere. E questo gioco, devi costruire una base, devi difenderla dagli attacchi, è veramente carino. Devo dire, poi, Nobody Wants to Die. Questo è da tenere davvero d'occhio, ragazzi. Gioco di Critical Game Set. Action basato su una New York City distopica, futuro oscuro nel quale c'è l'immortalità, ma qualcuno deve pagare il prezzo per questa conquista. Colonna sonora orchestrata in modo da rendere ancora più affascinanti le ambientazioni. C'è stata un'anteprima di questo gioco, molto narrativo, molto immersivo, se vogliamo, e di alta qualità grafica, quindi assolutamente da tenere d'occhio. Già. Poi, Detective Dotson, gioco successivo, ci chiede di esplorare l'India, un'avventura 2D vecchio stile. Continente di Detective Dotson, sembra essere uscito un film di Bollywood. Anche Detective Dotson, già su Steam per la Wishlist. Uno dei giochi meno convincenti, devo dire, ma non particolarmente brutto, voglio dire, non solo o meno degli altri. Poi, Once Human, già visto tante altre volte. Anche qui abbiamo avuto un approfondimento, oltretutto, del team di sviluppo che ne ha parlato. Survival 3D, e lo sappiamo, nel quale, in compagnia di altri amici, corre a esplorare un mondo popolato di animali, non morti e mostri vari, da combattere con armi da fuoco e a corto raggio. Puoi costruire il tuo insediamento e la possibilità anche di portarselo in giro. La peculiarità è l'arrivo di mostri che siamo usciti a giochi horror più classici. Il 9 luglio arriva in beta, e quindi, insomma, ma è un gioco che già conoscevamo. Poi, NSYNC, puzzle game cooperativo nel quale bisogna aspettare che il partner effetti particolari in movimento. Il tutto sembra funzionare perfettamente per essere giocato su Twitch, e infatti sì, è un cooperativo di puzzle solving, ok? Uno di quelli che ti fa ridere da matti perché bisogna sincronizzare le cose e succede sempre un casino. Caruccio. E poi, a sorpresa, Dredge, di Iron Rig. È un'espansione per Dredge, sì. DLC dell'apprezzatissimo gioco indie. Arriva il 15 agosto. Giusto, giusto per ferragosto, ragazzi. E i fan di Dredge, so che è stato un gioco molto apprezzato, anch'io stesso l'ho provato, è davvero carino, saranno molto contenti. Poi, Parcel Corps, anche questo già visto. È una sorta di simulatore di fattorino a bordo di una bicicletta per portare cibari a clienti piuttosto esigenti. Gioco un po' strano, sembra una sorta di davvero parkour con la bici, però se la giocabilità è buona potrebbe essere interessante e quindi da tenere d'occhio anche questo. Oltretutto c'è un Humble Bundle in questo momento dedicato al Future Game Show, con dei giochi oltretutto che sono piuttosto interessanti e tra cui American Arcadia che vi voglio assolutamente segnalare. c'è Engard, Lost Play, Ship of Fools, Deliver of Mars, dei giochini veramente carucci e quindi dateci un occhio, ok? Questo bundle non costa molto e dipende dal prezzo, ok? Cioè se pagate di meno ne avete solo uno o due, se pagate invece di più arrivate a un tot e li potete avere tutti quanti. Comunque, anche solo per American Arcadia, credetemi, vale la pena. Giocatelo. Poi, Screenbound. Oh, questo gioco è veramente peculiare. Un gioco nel quale si controlla una persona che sta videogiocando attraverso una sorta di Game Boy. Il parallelo tra il videogioco e il metavideogioco è piuttosto interessante, cioè sono sincronizzate le cose che succedono all'interno di quella sorta di Game Boy e quello che succede intorno a te. È caruccio, viene definito il primo videogame in 5D. Non ho tanto capito come funziona, ma è davvero intrigante. Da tenere d'occhio anche questo. Happy Busters, carrellata di giochi in arrivo su Netflix e poi è un prodotto all'ambientazione piuttosto particolare, una sorta di action GDR in uscita presto. Non c'è molto da dire, l'hanno appena appena accennato. The Relic, First Guardian. Questo è... sì, stupisce per il comparto grafico, sembra veramente figo, lo stile di combattimento spettacolare e velocissimo ed è un gioco, credo, abbastanza Souls-like, da quello che mi pare di capire, ma sembra essere fatto bene, ragazzi. Quindi, se amate il genere, segnatevelo. Poi, Hell of an Office, gioco di piattaforme dove la precisione è l'elemento fondamentale, presse nelle access su Steam, non molto da dire. The Operator, gioco investigativo nel quale devi risolvere i casi solo navigando sul computer di un agente FBI. Deliver Us Home, questo, attenzione, Kiyoken, che sono gli stessi di Deliver Us The Moon e Deliver Us Mars, hanno dovuto, tra virgolette, pubblicare il gioco come progetto Kickstarter perché, praticamente, se ho ben capito, non hanno più lo studio, hanno dovuto chiudere e licenziare tutti quanti e, se volete supportare questo progetto, c'è il Kickstarter, è il successivo progetto di questo studio che, a quanto pare, non si è resa l'idea e vuole terminare e continuare la serie Deliver Us. Quindi, se siete interessati, tenetelo d'occhio e andate su Kickstarter per supportarli. Poi The Precinct, una sorta di GTA ma a parte invertite, non saremo i panni di un poliziotto che si muove per una città in pieno stile i primi episodi della serie Rockstar Games, anche questo in arrivo a Ferragosto. Duck Detective, The Secret Salami, è un gioco investigativo con una papera, col vocione molto cattivo un po' alla Detective Cross, chissà che ne digerebbe lui. Motor Doom, Wild Blast, altri giochi che si mostrano in un trailer, Once to Play, e poi arriva Paper Oca, un investigativo con un Oca come protagonista. Tutti i personaggi sembrano disegnati su carta, simile a Paper Mario, oltretutto, sembra un gioco piuttosto interessante e ironico. Poi Sacrifier, GDR ispirato ai classici anni 90 ma con in più fuzzy puzzle e altre platform. Sembra molto fatto bene e sarà disponibile in playtest a partire da adesso, questo è uno dei giochi che voglio assolutamente provare. E poi di nuovo Space Marine 2, gioco molto atteso, non vedo l'ora di poterlo giocare. Poche settimane dall'uscita, gioco a PvP, capagna coppa, tre giocatori rispetto all'estetica di Warhammer 40.000 in maniera eccezionale. Poche settimane, il gioco arriva il 9 settembre in realtà, però sì, non è lontanissimo. Action 3D ad alto livello testosteronico, nel quale affrontare ordini di nemici motosega in mano di tiranidi per la cronaca. Ok, comunque, molto figo ma già visto. E poi, questa non me l'aspettavo proprio, il DLC di God Simulator 3. Folle come al solito, come potete immaginare altrimenti, si chiama letteralmente God Simulator Multiverse of Nonsense e se vedete il trailer di questo DLC è probabilmente il migliore titolo possibile per descrivere quello che vedrete. è fantastico. C'è un capibara che fa il ruolo di Thanos. Non vi dico altro. Arriverà il 19 di giugno, quindi in realtà è pure vicino. Poi, altra carrellata di giochi. Questo evento ha fatto molto bene a fare così. I giochi davvero più piccolini li ha messi in una carrellata velocissima e però ha delle cose interessanti. Tipo Skim o Shim, devi saltare da un'ombra all'altra, sfruttando le luci o creando delle ombre o spostando anche degli oggetti. È veramente carino. E poi c'è World Wars Handyman. Giudero, fatto completamente con la plastilina. Hermit and Pig, un gioco in cui bisogna raccogliere funghi. Una carrellata di giochi. Carini anche questi. Poi, oh, questo, ragazzi, sembra essere davvero bello. Eric Solm, The Stolen Dream. Avventura isometrica con elementi stealth ambientato in un passato distopico. Andate a vedere il trailer. Questo è probabilmente uno dei giochi più interessanti di tutto lo show. Purtroppo non si capisce molto dalla descrizione, ma maledizione quanto è intrigante e sembra essere veramente ben fatto. Quindi, assolutamente da segnare. Run for Mammies, action 2D in compagnia di amici, bisogna esplorare livelli pieni di trappole nemici e scappare dalle mummie. Mandragora, Souls-like 2D, dallo stile piuttosto riuscito, estetica simile a quella di Trine, però molto più oscura. Il gameplay, piuttosto classico, fatto in maniera apparentemente adeguata e che arriverà su tutte le piattaforme. Altro Souls-like, però 2D. Dustborn, gioco narrativo nel quale bisogna rispondere in maniera corretta per non avere conseguenze e si riverbereranno sul resto della partita. E arriva su PC e console. Se ho ben capito, è quello che i cui protagonisti sembrano usciti freschi freschi da un college americano. Però, vabbè, insomma. Enter the Chronosphere, action 2D piuttosto interessante, seguito da uno strategico con un po' di fisica nel quale bisogna controllare un'armata, ovvero Toy Tactics. Nuovo universo distopico di Linkito, di cui si è capito un po' poco, questa è un'altra carrellata. E poi Pneumata. Questo è un horror che sembra ispirato ai nuovi Resident Evil, un mix da orrore e terrore. Horror survival in arrivo quest'estate su PC e con console. Qualitativamente sembra essere ben riuscito. Se amate gli horror, dateci un occhio. Sono Kuni, una sorta di hotline Miami giapponesi con le parate e il rap giapponese. Questo è forse uno dei giochi più brutti dello show, secondo me. Però, vabbè, insomma. Anche questo ha avuto il suo spazio. Eternal Strength, design un po' classico con colori pastello. Action 3D nel quale cacciare, combattere, esplorare un mondo ricco di elementi da sfruttare a proprio vantaggio. E poi Starship Troopers Extermination. C'è un update bello importante. Spara tutto in per personale 3D che ci porta all'universo dei film e dei libri in quale l'umanità combatte contro gli insetti. Tante cose nuove e innovazioni. Se amate il genere e il tema Starship Troopers, io lo adoro, di nuovo dateci un occhio. E poi, ragazzi, The Casting of Frank Stone. Gioco che abbiamo già visto. È di Supermassive, lo stesso studio di Until Dawn e altri titoli. È ambientato nell'universo di Day by Daylight, ma non c'entra niente col gioco in sé, solo l'universo. È il gameplay classico dello studio in questo universo distopico. Quindi è avventura narrativa a bivi, nel quale bisogna provare a far sopravvivere il maggior numero di persone possibili, attraverso storie che metteranno a dura prova i nervi. E possibilmente dei quick time event che ti fanno morire uno che avevi cercato di salvare per tipo 6 ore. Nico Derico, animali che ricordano quelli di un film Disney, introducono un platform in 2D all'apparenza piuttosto classico, e non è vero che in 2D oltretutto, e non è solo in 2D, che alterna fasi bidimensionali e tridimensionali. Ah, ecco. Nico Derico sembra piuttosto divertente, peccato per la musica di accompagnamento. E vabbè, sì, una canzone di Katie Perry. Francamente c'erano canzoni peggiori, ok? Anche questa c'entrava poco. Questo però è interessante, ragazzi, in realtà la descrizione non gli rende tanto giustizia quello di questo articolo, perché in realtà è piuttosto carino. Ricordo un po' Donkey Kong, un po' Crash, e se amate quel genere di gioco, onestamente tenetelo d'occhio, perché potrebbe essere davvero interessante. Poi, oh questo, Bodycam. Si mostra durante lo show, un trailer che mostra la grafica ultra realistica del progetto. Stando alla nostra poca, il gioco è già uscito ieri, se ho ben capito, ma l'hanno detto in live, è ancora piuttosto vuoto purtroppo, però esiste, è da tenere in considerazione. Però vabbè, il lato grafico sembra figo. Poi, Woodrunner Games, uno studio formato da veterani che hanno lavorato a CapEd, Erich e Morti, a lavoro su nuove entusiasmanti esperienze, e purtroppo è soltanto questo. Non si dice altro. Però, dalla qualità delle animazioni, di quella cosina di veramente pochi secondi che hanno mostrato, eh sì, è qualcosa che potrebbe essere davvero notevole. Ora, questo è stato l'evento ragazzi, e ve lo dico subito, a mio parere, almeno questa è stata la mia sensazione, ne abbiamo parlato anche in live, che tra l'altro potete recuperare sul secondo canale proprio oggi, nel momento in cui esce questo video, verrà pubblicato tra poche ore, la potete recuperare sul secondo canale YouTube, link in descrizione. È stato un evento che ho, direi, gradito. È stato un evento assolutamente riuscito, una gran carrellata di giochi, certo, titoli piccolini, come da tradizione del Future Game Show, ma anche titoli un po' più importanti, francamente, perché Space Marine 2 è un tripla per esempio, assolutamente, e tanta roba, ottimo ritmo, e i giochi erano quasi tutti belli, qualcuno meno, sì, qualcuno meno convincente, qualcuno convincente a metà, ma molti carini e alcuni che sono, a mio parere, davvero imperdibili, o che promettono veramente molto, molto bene. Un evento che secondo me, finora, è stato il Guerilla Collective, il Summer Game Festival è proprio, e il Devolver Digital Showcase, di questi, secondo me, questo Future Game Show è stato il migliore, ok? E, tra parentesi, se non ricordo male, non è neanche la prima volta che capita. Se non sbaglio, anche l'anno scorso successe una cosa simile, no? Ovviamente, poi, però, bisogna vedere, perché la stagione degli eventi mica è finita, e oggi, tra parentesi, c'è la grossa bomba, ok? Che, ovviamente, vedremo in live, l'evento Microsoft, oggi, alle 19, quindi, c'è da, ci sarà da vedere questo, quindi, ovviamente, ci vediamo in live, ragazzi, e, però, insomma, questo Future Game Show, devo dire, molto positivo. In questi giorni, continuo a rubare lo spazio del commento del giorno, che presto tornerà, ragazzi, ma continuo a dirvi che, ovviamente, ci vediamo in live su Twitch, no? Link in descrizione, andatemi a seguire lì, se ancora non l'avete fatto, perché vedremo tutti quanti gli eventi, ovviamente, in live, giorno per giorno, e oggi è, mi viene da dire che oggi è davvero il grande giorno, visto come è andato il Summer Game Fest, non particolarmente apprezzato, con l'evento Microsoft. Ci vediamo in live alle 19, probabilmente andrò in live prima, magari una mezz'oretta o un'oretta prima o giù di lì, e poi vedremo l'evento, ok? Che sarà l'evento Microsoft alle 19, della durata di due ore con 30 giochi, il che include, poi, anche tutto lo speciale del nuovo Call of Duty, e, poi, non è l'unico evento, perché poi ci sarà anche il PC Gaming Show più tardi. Se non sbaglio, alle 22, fatemi controllare così al volo, perché ce l'ho proprio a portata di mano, sì, alle 22, quindi ci sono due eventi oggi, quindi, mi raccomando, seguitemi su Twitch, come vi sto dicendo in questi giorni, per stare in live insieme e vedere questi eventi. Ti piacciono le news? Allora non essere recalcitrante come i malnati. Abbonati al canale Twitch con Amazon Prime. Se hai Amazon Prime, puoi fare un abbonamento gratuito al mese al canale Twitch. Non ti costa niente, tu supporti il canale e Chris è felice, perché non è più povero. Abbonati con Amazon Prime su Twitch, così Chris è felice, tu supporti il canale e le cose. Ora, torniamo alle news. E ora le news a ruota, ragazzi. Allora, a proposito di eventi, no, Destiny 2, oltre la forma ultima, c'è la data e orario dell'evento in cui si parlerà del futuro di Destiny. Perché? In queste ore è stato completato per la prima volta al mondo il Ride Orlo della Salvezza, l'evento che ha permesso a tutti i giocatori di vivere la missione conclusiva di Destiny 2, la forma ultima, diciamo alla fine della storia e della lore. Ma cosa succederà dopo? Ci sarà un evento dedicato. Il viaggio continua, trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube ufficiale di Bungie, lunedì 10 giugno alle ore 17 del fuso orario italiano. Tutto inizia con un singolo passo, seguici il 10 giugno alle 17 italiane per scoprire di più sul prossimo anno di Destiny 2. D'accordo? Il focus saranno gli episodi, i nuovi contenuti che vanno a sostituire le vecchie stagioni, ne sapevamo di più anche sugli echi, il primo di questi contenuti che internaviva la prossima settimana avere a che fare con i Vex. È improbabile l'annuncio di un terzo capitolo, sebbene un tweet di Luke Smith potrebbe contenere riferimenti ad Destiny 3, ma per adesso probabilmente no, però ci sarà il futuro di Destiny dopo questa che dovrebbe essere una sorta di espansione conclusiva di una saga, di un'era. Poi, a proposito di conclusive, quando arrivano le recensioni di Aldering Shadow of the Earth 3, un insider lo svela e indovinate un po' chi è? Avete indovinato. Tom Henderson, proprio lui, uno degli insider più autorevoli, breve post pubblicato sul profilo personale ex Twitter, dice le recensioni dell'espansione del Soulslike arriveranno il prossimo 18 giugno 2024, circa tre giorni prima del rispetto all'uscita del DLC. L'insider più conosciuto sui social ha deciso di non sbilanciarsi per quello che riguarda l'ora esatta in cui scarderà l'embargo, ma non possiamo scludere che nei prossimi giorni pubblicherà un altro post con dettagli specifici. La tesista in espansione arriva a partire dal prossimo 21 giugno 2024. Ovviamente c'è il provato di Aldering Shadow of the Earth 3, tanti dettagli sulla mappa, le armi, i nuovi amici, ormai sappiamo tante cose e ovviamente manca poco al momento in cui si potrà giocare, perciò immagino che molti siano in attesa di questo. E poi, ultima cosa, oggi le news a ruota sono poche, Borderlands, un filmato esclusivo in anteprima tratto dal film dei GN Live. Il regista Eli Roth e i membri del cast Ariana Greenblatt e Florian Montenor hanno partecipato alla prima giornata del nostro evento, un evento di IGN, un evento inaugurale di IGN Live per presentare un primo filmato e il prossimo adattamento cinematografico basato sul celebre videogioco. Non c'è molto altro da dire, ragazzi, lo potete recuperare se siete interessati a questa nuova produzione cinematografica adattamento di Borderlands, basta che andate su IGN e ci date un'occhiata. E per quanto riguarda l'offerta del giorno, dato che si è parlato tanto di indie, uno di quelli più di successo ultimamente, Manor Lords, un gioco che ho provato io stesso, veramente figo e ben fatto, gestionale molto ispirato, che ha spopolato assai. È in questo momento in sconto del 50% su Istant Gaming e già costava i suoi 40€, adesso costa 20€ e 18 centesimi, un prezzo più che abbordabile secondo me. Come sempre vi ricordo che io sono partner ufficiale Istant Gaming, perciò se volete prendere il gioco attraverso il link qui sotto in descrizione, è un link affiliato, a me arriva qualcosina, quindi un ottimo modo per supportare il mio lavoro, il canale e il format delle news. Bene gente, è tutto per le news di oggi, grazie mille per aver visto questo episodio, noi ci vediamo al prossimo, come sempre mi raccomando iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi anche al secondo canale e seguitemi su Twitch soprattutto in questo periodo, lasciate un bel like a questo video se vi è piaciuto e qui sotto in descrizione trovate come sempre tutti i link ai miei social e community come Instagram, Telegram e TikTok, tutti i link per supportare il canale, tra cui i link affiliati ad Amazon, Istant Gaming e il link a Patreon e anche il link alla playlist con tutte le Crystal News che come sapete escono ogni giorno alle 7 su YouTube e sul podcast. A domani ragazzi!